Mi chiamo Eugenio Occorzio, di lavoro faccio giornalista e mi occupo di economia, ma questa volta vi racconto una storia personale che personale non è, perché è la storia di mio padre Vittorio Occorzio, il primo magistrato ad essere assassinato dal terrorismo politico a Roma. Le sue indagini si sono intrecciate con alcuni dei capitoli più bui della storia del nostro paese. Il podcast si intitola Storia di un giudice ed è realizzato dalla Fondazione Vittorio Occorzio per intesa San Paolo On Air. In ogni puntata vi racconterò una di queste indagini. Ripercorreremo alcune delle pagine più dolorose e complesse dello scorso secolo, dalla metà degli anni Sessanta fino agli anni di Piombo. Seguiremo i processi e le intuizioni di mio padre. Analizzeremo l'affare Sifar, la strage di Piazza Fontana, l'inchiesta su Ordine Nuovo, la banda delle Marsigliesi, la loggia P2 e tanto altro. Vicende e personaggi che hanno cambiato per sempre il volto del nostro paese.